potente appara ragazzi qua questo l'ho giungato oggi sono da sole sono qui a presentarvi su un nuovo video e ragazzi questo qua era l'atteserrimo pink pal infatti oggi sono qui a presentarvi il pink pal di quale giocatore vi è tuo in forma che ho pagato la bellezza di 650.000 glin glin e quindi è una cosa abbastanza tattica perchè non è un giocatore che vale così pochi crediti poi se vi state chiedendo perchè sto utilizzando il capello perchè ho dei capelli messi innanzitutto abbastanza male poi avevo voglia di metterlo e se vi state chiedendo perchè ho gli occhiali sopra il cappello perchè così il cappello non mi dovrebbe scivolare ma appena mi inizierà dal fastidio ovviamente io lo toglierò comunque prima di iniziare vi volevo ricordare bastate la prima con lo stesso il link trovate in descrizione fai con lo stesso quel sito di crediti che io appunto sponsorizzo quindi se siete interessati a comprare crediti mi raccomando andateci ragazzi non mi sto a dilungare perchè appunto un consiglio di molti di voi è stato quello di non divulgarmi quindi nel senso mi avete scritto Axel non divulgare quindi noi possiamo subito partire quindi io cosa faccio? pubblico innanzitutto vi ringrazio per tutti gli iscritti per tutti i mi piace messi negli ultimi video vi chiederei gentilmente di lasciare un mi piace ora proprio adesso per farmi vincere anzi bisogna battere due volte le mani quindi battiamo due volte le mani io accetterò li abbiamo battute due volte quindi il prossimo, prossimo invito uno e dov'è l'altro? e dov'è l'altro? il prossimo invito eh? dai dai questo via spiegando di non averci già giocato accettiamo accettiamo tanto iniziamo ad andare ad invitare già veloce il ciuccio 1926 non l'abbiamo mai incontrato credo quindi andiamo a fare il gioco con amici online e invitiamolo uh è già arrivato madonna siamo stati bravissimi non bravi siamo stati bravissimi uh fermetto ragazzi io ero andato un attimo in bagno proprio tattico sono più carico che mai uh gli serve proprio eto infatti lui ha un eto in attacco quindi noi non dobbiamo non dobbiamo darglielo 41212 mi sembra baggattino della barclays e si parte subito oh questo è bravo mannaggia questo è bravo bravo noia bravo noia bravo noia via subito bellissima palla e qua si può andare e qua si può andare casemiro 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 eto eto vai no dai jesus arbitro arbitro no 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 ehi dante 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 porca vacca ma che fai dio santo questo ci aveva l'aria di essere forte mannaggia si ma anche dante ma dai casso casso pici mod la mettiamo subito e dobbiamo metterla quindi ragazzi pici mod via serie di 1-2 straisi zabaleta la va a mettere in mezzo c'è Cristiano Ronaldo che firma subito l'1-1 all'undicesimo e l'abbiamo già preso l'abbiamo già recuperato il gol grandissimo rommi dai così eto de bruin può andare può andare non tira non tira non voleva tirare vai ramirez grande ancora de bruin avanza non è fuori gioco non è fuori gioco de bruin la re no sembrava gol ops vai ronny vai ronny vai ronny vai ronny vai ronny grandissimo esus esus non la tocca bene calcio d'angolo mannaggia dai adesso così così d'impatto d'impatto dante 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 2 a 1 al 45esimo meno male che gioca sta meno male che sta meno male che stesse giocando male madonna daje e tunze tunze daje daje 2 a 1 calmi ah 2 a 2 porca vacca 2 a 2 mannaggia la mette gol porca vacca gol e c'è il gol 3 a 3 3 a 3 3 a 3 3 a 3 3 a 3 3 a 3 dai oh ci crediamo ci crediamo adesso e ora si è più carichi che mai si è più carichi che mai porca miseria rigori ronny devo togliervi dai dai ronny dai ronny dai ronny dai ronny che schifo in mezzo e tu daje porca vacca dai che sus questo glielo prendo è già preso è già preso è già preso ma come ha fatto a non prenderla ma come De Bruyne daje è preso anche questo l'ho detto l'ho detto l'ho detto è ricordato decisivo casemiro l'ho vinto e abbiamo vinto e abbiamo vinto e abbiamo vinto e abbiamo vinto questo pinpale è stupiatissimo oddio che ripona 8 a 6 sui rigori su madonna che rigori che abbiamo tirato che rigori che abbiamo tirato mai successo che ho segnato tutti e 5 rigori madonna ero strateso ero strateso ti sono tenuti è tu ragazzi sono in una striscia appoggi di verni ma dei pinpale credo quindi ragazzi detto questo spero che il video vi sia piaciuto adesso vi faccio vedere un attimo le statistiche madonna quanti ero teso quanti ero teso va bene 12 tiri io 9 in porta io 11 tiri lui 8 in porta io meritavo di poco io posso essere 50-50 madonna che mordita quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto detto questo vi ricordo ovviamente lasciate un mi piace se arriviamo a 1500 mi piace farò il pinpale di Vidal in forma quindi mi raccomando mettete un mi piace detto questo ragazzi vi saluto e vi dico potente al prossimo video bolla